Questa è la mia erba della Pampas, Cortaderia seloana, è più alta di me, sarà alta quattro metri. Quattro metri, guarda già, bella eh, eh lo so, vediamo se riesco ad allontanarmi un po', ecco, e adesso faccio vedere il mio banano, ecco, questo è il banano, ecco, l'ho messo qui che ha tre anni, quindi ha tre anni di vita, mi sta facendo anche i giatti da sotto, questo è nuovo, solo questo qui quest'anno l'ha fatto, e guardate qui che mano, guarda, guarda, guarda che sta piovendo, fanculo, tempo di merda, naturalmente deve piovere adesso che devo fare il video, banano, eh dai, piccato del banano, eh, del melo, adesso il pomodoro li cavo perché quest'anno, stiamo fatto proprio schifo, ecco le mele, le mele, le mele, ti spegni o che cazzo fai, non si spegne più sto tablo di merda, ti spegni o cosa, devo fare quel cazzo che vuoi, ma non si spegne più, adesso spegno a riadivare il telefono, faccio presto, spegniti, ecco, vedete,